Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Bene, anche oggi eccoci qui con i nostri suggerimenti per questa settimana e questo weekend. Cominciamo subito con venerdì 7 giugno, vi consigliamo caldamente perché sarà sicuramente una bella esperienza, vi consigliamo di andare all'osservatorio astronomico di Ganda di Aviatico. L'osservazione del cielo comincia la sera ovviamente, verso le 21, c'è una piccola parte da fare a piedi e poi potrete entrare nel telescopio e osservare, guidati con gli astrofili, osservare il cielo di primavera, quindi sarà sicuramente una bella esperienza. La stessa sera invece a Clusone, quindi ci spostiamo in Alta Val Seriana, un concerto per la rassegna musicale Ad Memoriam di Scainelli e questo appuntamento sarà un concerto con armonica bocca e pianoforte, quindi qui un abbinamento un po' particolare, un po' inconsueto. Il concerto si terrà presso la Sala Legrenzi del Museo Arte e Tempo, ovviamente in serata verso le 21. Il 7 di giugno è anche il giorno dell'inaugurazione di una mostra che si terrà al Museo Etnografico della Torre di Albino. È un museo molto interessante dove si potranno trovare attrezzi agricoli della vita contadina e dove viene proprio ricostruita un'antica casa contadina. La mostra si chiama Olmarengù ed è dedicata appunto a questo falegname, in dialetto Olmarengù, il falegname Stefano Bedovati che si occupava dell'intaglio di mobili e di arredi in legno appunto. La mostra è visitabile tutte le sere, dal lunedì al venerdì e nel weekend anche durante il giorno, fino al 16 di giugno ad Albino appunto. Sabato 8 giugno invece a Gromo è la giornata di Gromo sempre in forma. La mostra a mercato ormai che si ripropone da alcuni anni, la mostra a mercato dedicata ai prodotti tipici ed in particolare proprio al formaggio. Ci sarà infatti un concorso proprio dedicato, riservato alla formagella della Valseriana, filmati di montagna, poi esposizioni di funghi e anche animazioni musicali con i costumes de par, questo gruppo folcloristico. In serata c'è la cena, tutto si svolgerà proprio in Piazza Dante, nella piazza principale del paese di Gromo e in serata poi l'animazione è con Radio Antenna 2. La stessa giornata, l'8 giugno, è quella dell'inaugurazione della pista ciclabile tra Gromo e Val Bondione. Quindi potrete partecipare sia a piedi che in bici per questa camminata non competitiva per inaugurare il tratto di pista ciclabile realizzato alcuni mesi fa proprio tra Gromo e Val Bondione. Il 9 giugno per gli sportivi appassionati di mountain bike c'è il trofeo MTB Par, il trofeo di mountain bike appunto. La settima prova del circuito Orobie Cup che si svolgerà sui territori da Parre fino a Piario, Clusone fino ad arrivare nella Pineta e poi per ritornare a Parre presso l'oratorio con il passaparti finale per tutti. Ci saranno premiazioni sia per i partecipanti uomini, donne e ragazzi, quindi categoria junior. Il 9 di giugno è anche, se avete piacere, anche la giornata per fare alcune gite fuori dal nostro territorio. Quindi l'Effe ha organizzato una gita a Capodiponte con visita alle incisioni rupestri di Capodiponte in Val Camonica e visita anche alla centrale idroelettrica di Cedegolo. Mentre invece le Taissine di Gorno, questo gruppo folkloristico di Gorno, vi invita a fare una gita a Ornica e a Valtorta in Val Brembana. Quindi a Ornica per visitare questo piccolo borgo alpino dove le donne di montagna hanno realizzato questo albergo diffuso. Quindi hanno messo a disposizione il loro appartamento a livello turistico. Quindi sarà una bella gita con conclusione poi nel pranzo in un ristorante locale. Per tutti gli appuntamenti della settimana potete sempre visitare il nostro sito internet valseriana.eu e chiamarci per avere tutti i dettagli degli eventi che vi ho detto oggi. Bene, quindi buona settimana e buon weekend a tutti. Alla prossima! Promo Serio Eventi Eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalpe 600.io Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.